Non ci sono dubbi sulla mia estraneità ai fatti che mi vengono imputati, ovviamente è un'indagine in corso e quindi è giusto che la procura una volta che ha sul tavolo una documentazione, una richiesta la debba portare avanti ed è giusto che io possa spiegare, però ribadire correttamente sia qual è il mio ruolo, sia quali sono le mie funzioni e quindi diciamo questo equivoco mi auguro davvero venga chiarito al più presto e quindi il massimo auspicio che quanto prima si possa risolvere con l'archiviazione dell'indagine. La procura di Pesaro accusa di assenteismo la dipendente dell'area vasta 1 Marina Barniesi, nonché assessore alle politiche sociali del comune di Fano ed esponente del PD locale. Sono una decina gli episodi al vaglio degli investigatori nei quali la dipendente avrebbe timbrato il cartellino di lavoro e poi si sarebbe trovata fisicamente da altre parti, non nel suo ufficio, ma questo specifica la Barniesi e insito nella mia attività lavorativa. Non sono accusata di null'altro che dell'essere in orario di lavoro anche in un territorio che tra l'altro ricopre l'area vasta provinciale, del resto io sono l'unica psicologa che lavora su un territorio di 136 mila abitanti e quindi vi lascio ben immaginare che è virtuoso il fatto che una persona, un operatore non stia solo fermo nel territorio, nel suo comune di riferimento, ma che si adoperi se viene chiamato, se viene richiamato anche a collaborare con dei colleghi che sono altrove. La psicologa non sarebbe la sola ad essere sotto la lente di ingrandimento della Procura, ci sono altre cinque persone ed un altro troncone di inchiesta sarebbe stato aperto e riguarderebbe società private che forniscono le ambulanze per i servizi sanitari. Ora, dopo che il suo legale, l'avvocato pesarese Paolo Fumelli, ha inoltrato alla Procura una memoria e la richiesta di interrogatorio, non rimane che attendere i tempi della giustizia. Beh, sono molto intristita da questa vicenda, non mi appartiene questo mondo, a volte penso davvero che sia un brutto sogno e che prima o poi mi sveglio e ritorniamo alla normalità, quindi spero davvero che si concluda presto nel migliore dei modi.